No, diciamo sì, sto abbastanza meglio del solito, quindi sì. C'è qualcosa che vuole dirti raffiati a te la telecamera? Lasciamo stare. Sono venuti qua per farmi leader, quindi c'è nulla da dire. No, ho avuto sto botta all'allenamento e ogni volta che riprovavo a allenarmi prendevo di nuovo botte, quindi stavo sempre male. Però ora diciamo che sto molto bene. Quanto è difficile adesso convincere Zeman in una prima volta? No, vabbè, non è che dobbiamo convincerlo. Gioca ora a un momento dedicato, gioca chi sta bene, che decide il ministro, quindi l'importante è la squadra. Giabbo è 100% adesso. Sì, diciamo sì.